E' finita ieri mattina a Sinopoli la latitanza di Nicola Alvaro. L'uomo si è costituito infatti presso la locale stazione dei Carabinieri. Nato a Oppidoma Mertina il 17 giugno del 1982 e residente a Sinopoli, noto alle forze di polizia e ritenuto affiliato alla cosca di Indrangheta denominata Alvaro Violi Macri, operante nei comuni di Sinopoli e Sante Eufemia da Spromonte. L'uomo era ricercato dal mese di novembre 2016 quando si è sottratto all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ufficio esecuzione penale, dovendo espiare una pena di due anni e quattro mesi e 19 giorni di carcere per i reati di concorso in associazioni di stampo mafioso, ricettazione, tutti i reati commessi nel periodo che va dal 2003 al 2005 nella provincia di Reggio Calabria, provvedimento restrittivo emesso nell'ambito di un'attività di indagine convenzionalmente denominata virus condotta dalla Polstato. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Palmi a disposizione della competente autorità giudiziaria informata dalla stazione Carabinieri di Sinopoli.